Buongiorno, ben trovati lunedì 9 marzo 2020, primo appuntamento della settimana con Mattino 6, la nostra rassegna stampa per la lettura dei quotidiani che troverete oggi in edicola, ovviamente in primo piano neanche a dirlo l'emergenza coronavirus con una situazione che anche nella nostra regione si fa più difficile, sono arrivati nuovi casi e dunque si continua a lavorare per gestire questa emergenza ovviamente sui giornali di oggi, grande spazio sul problema e su questa emergenza che si sta vivendo nel paese e anche nella nostra regione, nell'ultima parte poi parleremo di sport, uno sport soprattutto calcio che vive un momento particolare, tutte le altre federazioni hanno dato lo stop ai campionati, ieri si è giocato in Serie A, si sono giocate le gare di Serie B tra le polemiche con l'Asso Calciatori che aveva chiesto un nuovo stop, domani ci sarà una riunione in federazione convocata dal presidente federale Gabriele Gravina, si potrebbe decidere di fermare i campionati, ne sapremo di più nelle prossime ore ma andiamo per ordine, iniziamo con le prime pagine dei giornali abruzzesi, siamo al centro l'edizione di Pescara ovviamente in primo piano il coronavirus, vedete l'Abruzzo si blinda in quarantena che arriva dal nord, arresto per chi non rispetta l'ordinanza del presidente della regione Marsilio intanto c'è stata un'altra morte sospetta, un 68enne ricoverato appena in regione, i casi salgono a 17, poi vedete a centropagina la foto della stazione ferroviaria di Giulianova perché sono partiti da ieri come disposto proprio dal presidente della regione i controlli della protezione civile nelle stazioni per quanto concerne l'arrivo di passeggeri che giungono nella nostra regione su treni, su convogli partiti proprio dal nord Italia e poi vedete più in basso stop a mercati e locali della Movida, a Pescara vi è controlli in bar e ristoranti sul rispetto della distanza di sicurezza tra i clienti in Italia ieri il giorno nero dell'epidemia i morti salgono a 366, i contagi sono 6.387, poi anche le polemiche con le regioni contro il presidente del Consiglio Conte il decreto è poco chiaro e poi i riflessi sull'economia del coronavirus, gli economisti mille miliardi di danni globali vediamo anche cosa dice l'esperto, il professor Giustino Parruti al vertice della Task Force abruzzese ci sono, ha detto Parruti, primi casi positivi, non importati vediamo qualche altra notizia, cambiando argomento a Pescara la cronaca picchia gli operatori Caritas per ottenere una camera, è stato arrestato e poi distrugge due auto in sosta e si schianta contro un muro tre persone finiscono in ospedale, dicevamo dello sport con l'ultima parte in cui parleremo di calcio in particolare perché si è giocato solo nei campionati di calcio, tra l'altro professionistici con il Pescara battuto pesantemente sul campo del Benevento per 4 a 0, play out ormai ad un passo, biancazzurri che sono entrati in campo con le mascherine e poi vedete l'altro titolo che riguarda la Serie A con la Juve che piega l'Inter per 2 a 0 e come vi dicevo stop alle partite e scontro fra Asso Calciatori e Lega vediamo la prima pagina del centro di Chieti, Lanciano Vasto in questo caso vediamo in basso il titolo che riguarda, oltre a quelli che abbiamo già visto sull'edizione di Pescara sul coronavirus, vediamo quello che accade a Chieti perché Ferrara non si candida, penso ai pazienti il consigliere medico c'è l'emergenza, devo stare con i miei assistiti e dunque Ferrara rinuncia alla candidatura vediamo altri due titoli che arrivano dalla provincia di Chieti il primo da Lanciano, ammessa con il contagiato, 40 persone in isolamento per Ortona, barista morto, via i controlli su familiari e amici stretti vediamo altre notizie, la prima riguarda la cronaca cade mentre fa crosse grave, incidente sulla pista di Ortona 47enne ricoverato a Pescara e poi là si è cocrolla, prima sconfitta stagionale perché sì, dicevamo prima si è giocato quasi solo nei campionati di calcio stop ai campionati di basket sono tornate a giocare le squadre di volley con la segortona che è stata battuta come vedete anche da questo titolo parliamo in questo caso del campionato di serie A2 maschile di volley vediamo la prima pagina del centro di Teramo i terramani ancora bloccati alle Maldive la comitiva potrebbe restare due settimane Giulianova controlli sui passeggeri in arrivo dal nord vediamo anche la foto in alto Costa Teramani, sindaci, i turisti non escono dalle loro abitazioni al mare e poi inchiesta sull'Andrangheta Naselli ricorre in Cassazione vediamo poi un'altra notizia referendum sul passaggio alle Marche Valle Castellana resta in Abruzzo non è stato infatti raggiunto il quorum dei votanti ai seggi in tanti con le mascherine poi il calcio di serie C con il Teramo che cade ancora Iachini furia sui giocatori biancorossi battuti in casa dalla Virtus Francavilla vediamo la prima edizione di L'Aquila Avezzano e Sulmona del quotidiano Il Centro L'Aquila chiese locali semideserti la città affronta l'emergenza Sulmona in isolamento gli otto amici del sessantenne contagiato e poi L'Aquila a vent'anni dalla morte Pastorelli il monsignore della nuova perdonanza e poi Roccaraso scampata all'ecidio nazista domani compie cent'anni vediamo un'altra notizia in basso travolto e ucciso da un'auto Fabrizio Cervellini 49 anni era originario di Luco De Marsi la tragedia è accaduta a Bologna fermo il calcio direttantistico abruzzese l'Aquila dei record a un passo dall'impresa con la promozione ormai dietro l'angolo per la formazione Rosso Blu vediamo la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero quarantena per chi arriva ordinanza della regione Abruzzo per arginare i pericoli della grande fuga dalla Lombardia in aumento i nuovi contagi positiva una studentessa i casi salgono a 17 e poi vedete in questo caso la foto che riguarda la stazione di Pescara Pescara blinda la stazione e l'aeroporto e poi pacchi con i viveri e Skype l'angoscia delle famiglie divise poi comitiva bloccata per 14 Teramani Maldive, Trappola vediamo poi la cronaca in questo caso folle sabato tra aggressioni e minacce con i coltelli doppio arresto a Pescara vediamo un'altra notizia che ritroviamo anche sul messaggero che abbiamo visto sul centro chiede il rifiuto di Diego Ferrara consigliere comunale e medico di base che si ritira dalle elezioni per stare al fianco dei suoi pazienti vediamo in alto le notizie che riguardano lo sport seco passo falso casalingo lo seto battuto con onore e poi il calcio di serie C Teramo perde la via in casa Patroni Achini e Furibondo e poi il calcio di serie B Benevento troppo più forte il Pescara ne prende 4 Lasciamo dunque le prime pagine dei quotidiani abruzzesi siamo all'edicola nazionale partiamo dal Corriere della Sera vediamo il quotidiano milanese come titola in apertura sul coronavirus vedete il virus avanza lite sui divieti protesta delle regioni nelle carceri è rivolta tre morti oltre 7 mila casi l'Italia è seconda al mondo e intanto si allarga la zona di sicurezza per frenare i contagi vedete la foto in alto la prima foto partendo dall'alto di una piazza Duomo a Milano completamente o quasi deserta e poi invece i milanesi che preferiscono passeggiare lungo le rive della Darsena vediamo ancora l'emergenza altri titoli guida alle norme i nodi da sciogliere il resto per chi viola le regole l'autocertificazione Varchi e poi Bergamo decidere chi curare e chi no noi medici come in guerra parla un anestesista rianimatore poi gente di Milano Armani scelsi questa città da ragazzo lo rifaccio oggi vediamo Repubblica cara Italia l'ora è buia ma dobbiamo farcela intervista al presidente del consiglio Giuseppe Conte che parla proprio di questa situazione complicata anche nel nostro paese per via del coronavirus e poi vedete il campionato a porte chiuse la Juventus ieri ha battuto l'Inter per 2 a 0 nel big match del campionato ma dicevamo prima lo sport è in subbuglio la Juve vince ma potrebbe finire qui perché potrebbe arrivare lo stop ai campionati a tutti i campionati nel nostro paese vediamo il fatto quotidiano porte chiuse bocche aperte nelle regioni e tutti contro tutti fuga di notizie sul decreto dalla Lombardia e fuga di fuga di persone verso sud e poi infermieri e farmacisti gli angeli delle zone rosse e poi ancora l'organizzazione mondiale della sanità responsabilizzare i ragazzi sui canali social andiamo a vedere la prima pagina del giornale adesso chiudiamo anche questo governo allo sbando la fuga di notizie sul decreto manda l'Italia nel panico e poi vedete il coronavirus fa chiudere gli irriducibili delle iene puntate rimandate e poi ancora che cosa si può fare e cosa no va de mecum per un paese blindato un altro titolo che riguarda l'economia i riflessi del coronavirus sull'economia la borsa rimane aperta ma è rischio speculazione vediamo libero umiliata la prima regione d'Italia viaggio nel ghetto lombardia il governo spacca l'Italia con un decreto che non volevano né Fontana né Zaia né Bonaccini che sono rispettivamente i presidenti di regione Lombardia Veneto ed Emilia Romagna il sud respinge gli immigrati meridionali tornatevene al nord come leggiamo da questo titolo di libero andiamo avanti vediamo il messaggero nazionale dirà che il contagio fuga al sud virus assalto a treni e bus dal nord dopo le chiusure otto governatori contro le misure del governo avanza l'epidemia 7.375 positivi 366 morti 622 guariti l'Italia è seconda dopo la Cina per decessi arrivi e movi da fuori legge la stretta di Roma ma è stretta in tutto il paese in tutte le città del nostro paese e poi cassa integrazione indennizi allargati a tutte le aziende colpite e in arrivo il decreto del governo e poi polemica sullo stop in piazza affari scambi regolari la BCE scende in campo vediamo il mattino di Napoli in isolamento chi viene al sud le ordinanze dei governatori dopo la fuga dalle zone rosse De Luca che è il governatore presidente della regione Campania pensa allo stop a bar e ristoranti 8 presidenti di regione contro il decreto del governo via i controlli in stazioni aeroporti e strade vediamo ancora corre il contagio picco di morti l'Italia dopo la Cina in Campania superati 100 infetti il trend è stabile medico positivo al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli vediamo la verità un commissario contro i danni del governo la situazione è straordinaria pieni poteri il decreto di auto quarantena arriva dopo ore di sbando per Conte scrive il quotidiano la verità e poi Zaia guida i rivoltosi nel area del nord manca la fiducia in Roma vedete nella foto il presidente della regione Veneto vediamo il sole 24 ore il virus riscrive tassi bilanci e contributi scadenze oltre 40 appuntamenti fino a luglio con le incognite di liquidità e previsionale intanto sulle rate dei mutui stop a largo raggio vediamo la stampa di Torino state a casa o fermiamo l'Italia il virus non si arresta i positivi salgono a 7300 come abbiamo visto 366 i decessi e l'allarme degli epidemiologi a rischio il 60% della popolazione Ricciardi Roma e Lazio prossime aree sotto attenzione decisivi i futuri 8 giorni il Viminale anche il carcere per chi viola i limiti alla mobilità governo pronto ad usare l'esercito e il calcio nella giornata delle gare a porte chiuse la Juve regola i conti con l'Inter bianconeri che battono la formazione nera-azzurra ma ora lo stop al calcio è più vicino con la sponda dell'UEFA e dunque potrebbero fermarsi i campionati di calcio per ripartire non si sa quando vediamo il tempo di Roma nessuno isola gli Zinga Boys caso regione i politici si sono già concessi l'autoimmunità dal virus e sfuggono alla quarantena e poi la raggi dorme i romani si regolano da soli scrive ancora il tempo e poi pugno duro galera a chi viola la quarantena vediamo il secolo punto it chiudetevi in casa con il coronavirus è una guerra la vinceranno i medici eroi le famiglie non rischino vediamo il secolo decimo nono Liguria stop ai turisti da aree a rischio Toto impone ai non residenti arrivati da Lombardia e dalle 14 province di non uscire di casa gli hotel non possono ospitarli pesanti divieti del decreto Conte per limitare gli espostamenti e poi vedete i due volti dell'emergenza Genova la spiaggia di bocca d'asse affollata come in estate nonostante l'allarme coronavirus e poi Milano piazza del Duomo lo abbiamo visto anche prima dal Corriere della Sera praticamente quasi deserta lasciamo i quotidiani nazionali torniamo al centro per tornare a parlare dell'Abruzzo di come ci si sta muovendo in Abruzzo per fronteggiare questa emergenza vedete c'è un'altra morte sospetta un pensionato di 68 anni il caso all'ospedale di Pene era ricoverato nello stesso reparto di un anziano contagiato oltre 60 operatori sanitari sottoposti al test sono ore decisive per scongiurare il peggio e poi la denuncia al San Massimo la rianimazione e part time la reazione del sindacato della Fialz vediamo ancora Marsiglio e quarantena per chi torna dal nord l'Abruzzo si blinda contro l'esodo scattato dalla Lombardia si rischia l'arresto i numeri utili l'appello del governatore non mettete a rischio la nostra regione poi come detto sono partiti i controlli nelle stazioni e negli aeroporti della nostra regione la protezione civile accoglie chi arriva dalle zone a rischio vediamo ancora gli sviluppi secondo l'esperto in Abruzzo i primi contagi non importati lo dice l'infettivologo Giustino Parruti che al vertice della task force abruzzese siamo di fronte ha detto Parruti ad uno scenario nuovo cerchiamo pazienti locali i test positivi salgono a 17 tra questi c'è anche quello di una studentessa e intanto i sindaci chiedono di riaprire i piccoli ospedali d'Abruzzo non abbandonate i nostri bimbi sciarretta papà della piccola Noemi chiede di potenziare il reparto dell'ospedale di Pescara e proprio a Pescara proseguono e sono stati anche intensificati i controlli in barri e ristoranti chiudono i mercati rionali vedete nella foto i controlli della protezione civile della stazione ferroviaria di Pescara e poi ospedale doppi turni in corsia santo spirito servono altri 80 infermieri di Sigismondo coordinatore del 118 siamo a rischio con orari massacranti urgono rinforzi in tilti il centralino delle emergenze oltre 2000 telefonate al giorno per informazioni sul covid-19 vediamo in basso ancora l'emergenza coronavirus stop anche alle messe rinviato un battesimo alla chiesa della visitazione Don Cristiano celebra l'ultima liturgia fedeli sparpagliati tra i banchi vediamo ancora c'è anche lo stop al divertimento i locali della Movida è giusto chiudere e a Manoppello è stato attivato il centro per l'assistenza alla popolazione cambiamo argomento ex discarica la bonifica procede Montesilvano Testa e Derenzis rassicurano sui fondi per l'area di Villa Carmine andiamo avanti la cronaca minacce clienti del bar vi sparo a tutti trentenne arrestato per resistenza dalla polizia a Villa Raspa e poi ancora intervento della polizia in via lento aggredisce gli operatori Caritas per ottenere una stanza anche in questo caso è scattato l'arresto proseguiamo danneggia due auto in sosta e si schianta contro un muretto è accaduto a Pescara l'altra notte un Audi A4 provoca una carambola lungo la nazionale in tre in ospedale controlli dei vigili su alcol droga e velocità a città Sant'Angelo il comune dice sì alla pulizia periodica delle scuole siamo alla pagina di Chieti del centro coronavirus gli effetti sulle elezioni Ferrara si chiama fuori ora devo fare il medico il consigliere lascia la corsia la scusate la corsa a sindaco la priorità sono i miei 1500 assistiti il centro-sinistra resta così senza candidati convocato un vertice per la decisione e intanto di Giovanni del PD parla di grande esempio parliamo ancora di coronavirus più posti in terapia intensiva investimenti per un milione per quanto riguarda l'ospedale Santissima annunziata di Chieti dopo la richiesta dei sindaci del comprensorio ci spostiamo ad Ortona barista morto via ai controlli anche nella cittadina di Ortona sotto osservazione i familiari di Mascitti le persone che hanno avuto un dialogo ravvicinato con lui per più di 15 minuti Ortona ancora turisti in Thailandia stiamo tutti bene poi Rapino Micucci il sindaco di Rapino parla di ristoranti senza sicurezza da come leggiamo su questo titolo e da Guardia Grele arriva una proposta ora riapriamo il nostro ospedale la richiesta la proposta del sindaco di Guardia Grele Simone Dal Pozzo e a Lanciano ammessa con il contagiato 40 vanno in isolamento c'è anche la cronaca in primo piano tornando ad Ortona cade con la moto grave un 47enne incidente sulla pista da cross il ferito è stato trasportato a Pescara e operato d'urgenza nel nosocomio Adriatico siamo alla pagina dell'Aquila del centro anche all'Aquila ovviamente si affronta l'emergenza coronavirus diversi locali pubblici chiudono padre De Gennaro la paura non vincerà la psichiatra Casacchia l'isolamento dice rende tutto più difficile e poi c'è questa notizia che arriva da Bologna muore 49enne di Luco De Marsi travolto da un'auto il marsicano Fabrizio Cervellini da tempo viveva a Bologna stava facendo salire i clienti sul suo taxi siamo alla pagina di Teramo la prevenzione ai tempi del coronavirus giugnanova controlli alla stazione per chi arriva in treno dal nord nel capologo presidiata la fermata degli autobus di Piazzale San Francesco ovviamente in questo caso siamo a Teramo aprono i cocchi il sindaco Adalberto mi appello al senso civico di tutti per il rispetto delle prescrizioni e poi l'invito dei sindaci della costa chi torna nelle case al mare non esca lo hanno chiesto lo hanno detto i sindaci dei comuni del litorale Teramano di Tortoreto di Silvi e degli altri comuni della costa Teramana vediamo ancora cambiando argomento il referendum di Valle Castellana consultazione fallita Valle Castellana il centro dell'Alto Teramano resta in Abruzzo non è stato infatti raggiunto il quorum del quorum scusate del 50% più uno dei votanti nei seggi con mascherine e guanti per l'allarme coronavirus come potete vedere dalle foto i risultati alle urne il 25,6% quasi tutti per il sì ma come detto la consultazione referendaria è stata annullata e fallita perché non è stato raggiunto il quorum vediamo un altro titolo in basso Andrangheta Naselli ricorre in Cassazione l'ex comandante dei carabinieri di Teramo indagato a Catanzaro e agli arresti domiciliari vediamo ancora le pagine dello sport prima di passare invece all'inserto Abruzzo del messaggero Pescara altre 4 sberle con i biancazzurri battuti a Benevento male anche il Teramo sconfitto in casa dalla Virtus Francavilla per 1 a 0 ma noi andiamo a vedere le pagine interne almeno le prime prima di fermarci per qualche istante dell'inserto Abruzzo del messaggero ordinanza shock in quarantena chi fugge dal nord puglio duro di Marsiglio dopo la grande fuga nella notte chi arriva deve segnalarsi alla ASL ha detto il presidente del regione e poi il governatore in isolamento giornata giornata a casa tutto meno che rilassante e poi pacchi con i viveri telefonate Skype la difficile normalità delle famiglie divise tante famiglie divise con persone che si trovano a vivere in città diverse siamo alla cronaca di Pescara aerea e stazione Pescara si blinda come d'altronde le altre città filtro di forze dell'ordine protezione civile all'arrivo dei treni da Milano e Venezia identificati i viaggiatori in arrivo dal nord anche in aeroporto sono stati controllati e informati sulle cautele da adottare i passeggeri dei tre voli provenienti dal Lombardia e poi Penne città Sant'Angelo incubo focolaio centinaia di verifiche nell'ospedale del primo ricovero nel paese della coppia risultata positiva senza contatti con il nord e poi deserto notte la Movida si spegne a Pescara pochissima gente nei locali nel weekend vediamo la pagina dell'Aquila coronavirus comuni in rivolta contro l'esodo dalle zone rosse fioccano anche nell'Aquilano le ordinanze per impedire il rientro dalle aree più rischiose chi tornerà dovrà comunicare i propri dati si moltiplicano le limitazioni delle attività e poi vedete due ospedali sono pronti per ripartire tra questi quello di Tagliacozzo e poi comunicare per proteggere l'app del comune dell'Aquila si allarga al covid 19 vediamo poi in basso siamo in Valle Peligna Sulmona caso positivo otto parenti in isolamento e poi Luco De Marsi tassista marsicano resta ucciso a Bologna abbiamo visto prima la notizia anche dagli altri quotidiani e poi il personaggio perché domani 10 marzo Pierino Scataglini compie 100 anni allora noi possiamo fermarci per qualche istante per la fine della prima parte di Mattino 6 tra poco torneremo in studio di nuovo in studio seconda parte di Mattino 6 avevamo iniziato a leggere a vedere insieme le pagine interne del quotidiano il messaggero siamo alla pagina che riguarda la cronaca di Chieti vedete anche in questo caso ovviamente l'apertura è dedicata all'emergenza coronavirus contatti alla messa in quarantena 50 persone a Lanciano il primo lancianese contagiato aveva partecipato al rito funebre di un familiare il vescovo Cipollone ha chiuso la chiesa stop anche a processioni ed eucarestia a casa e poi ancora chiede il centro-sinistra da capo passi indietro di Diego Ferrara che lascia medico per pensare in questo momento particolare ai suoi pazienti ai suoi assistiti la cronaca Ortona fa motocross cade ferito pescarese ricoverato all'ospedale di Pescara e poi vasto bilancio consiglio comunale a porte chiuse con diretta streaming Ortona barista morto mamma e sorella in isolamento vediamo la pagina di Teramo del quotidiano il messaggero rientrano di notte dal nord paura in vibrata coronavirus decine di abitazioni al mare riaperte nei comuni di Martinsicuro Alba Adriatica e Tortoreto preoccupazione tra i sindaci residenti coinvolgete nei controlli gli amministratori di condominio loro sanno chi c'è nelle seconde case e poi in auto isolamento Paolo Gatti ed Alberto apre il centro operativo Giulianova anche il sindaco Costantini presidia la stazione treni poco affollati chiesti i documenti vediamo ancora covid 19 14 teramani bloccati alle Maldive sono in buone condizioni siamo arrivati allo sport per parlare in maniera ampia diffusa di sport in questa seconda parte anche con i riflessi che l'emergenza coronavirus potrebbe portare nel mondo sportivo nazionale noi andiamo per ordine iniziando a vedere le prime pagine dei tre quotidiani sportivi nazionali oggi in edicola partiamo dalla gazzetta dello sport vedete una gioia nel silenzio la juve schianta l'inter 2 a 0 e torna in testa alla classifica vediamo e proprio in grazie a questo specchietto come sempre della gazzetta dello sport i risultati dell'ultimo turno delle gare che si sono giocate con parma spalla 0 a 1 milan genoa 1 a 2 sandoria verona 2 a 1 udinesi fiorentina 0 a 0 juventus inter 2 a 0 si giocherà oggi alle 18 e 30 sassuolo brescia vedete la classifica che è una classifica parziale perché ci sono squadre che hanno giocato una o anche due gare in meno juventus 63 lazio 62 inter 54 atalanta 48 Roma 45 Napoli 39 Milan 36 Verona e Parma 35 Bologna 34 Cagliari 32 Fiorentina 30 Sassuolo 29 Udinese 28 Torino 27 Sampdoria 26 Genoa 25 Conillecce Spal 18 Brescia 16 piuttosto staccate le ultime due della classifica ovvero Brescia e Spal tornando restando al calcio giocato le vicende societarie pesano sul Milan inutile la rete di Ibrahimovic un Milan troppo frastornato perde per 2 a 1 in casa con il Genoa Parla Piole al 91 colpa nostra zero alibi ma come detto il mondo del calcio si interroga se andare avanti vedete il titolo in alto il virus avanza il calcio si ferma c'è il punto di domanda domenica drammatica più contagi ma la serie alitica caos prima di Parmaspal in bilico per un'ora il sottosegretario lo sport Spadafora giocare ha detto è da irresponsabili la Lega faccia un decreto la FIGICI domani può decidere lo stop come dicevamo prima dunque potrebbe fermare tutti i campionati di calcio vediamo il corriere dello sport di bala un sorriso Ramsey e una magia dello Ioia firmano il sorpasso della Juve che batte l'Inter per 2 a 0 stop al calcio e caos il ministro vuole fermare la serie la serie A scusate prima ho detto sottosegretario ma si tratta del ministro la Lega è contraria vediamo ancora crolla intanto il Milan abbiamo visto prima anche dalla gazzetta doppio colpo delle Genovesi con il Genoa che passa appunto a San Siro con il Milan e vittoria anche in rimonta della Sampdoria in casa con il Verona per 2 a 1 vediamo tutto sport che Juve che Dybala Sarri lezione a Conte 2 a 0 in alto vedete siamo alla farsa e poi Milan flop il trionfo di Gazzidis vediamo dunque ora le pagine dello sport regionale iniziamo dal centro ovviamente anche il centro nelle prime pagine parla del campionato di Serie A di queste partite giocate ieri in ambienti particolari surreali senza pubblico ad iniziare dallo Juventus Stadium in cui la Juventus ha battuto però l'Inter per 2 a 0 vedete poi la festa dei bianconeri nello spogliatoio dello stadio di Torino e poi ancora la chiave di Sarri Paolo è l'arma in più Paolo e Paolo Di Bala sapevo che mettendolo a gara in corso poteva diventare decisivo ha detto Sarri ma il risultato più clamoroso di ieri è quello che è scaturito al Meazza San Siro di Milano dove il Milan è stato battuto per 2 a 1 dal Genova Pioli al 91esimo ha detto questo non è calcio ovviamente giocare a San Siro a porte vuote ma come in tutti gli altri stadi non aiuta sicuramente le formazioni di casa emergenza coronavirus governo lega che scintille domani lo stop alla serie A attesa per il consiglio della FIGC il ministro Spadafora continuare a giocare ha detto il ministro è da irresponsabile il calcio non è immune Dalpino si prenda le responsabilità ha detto Paolo Dalpino che è il presidente della Lega di serie A e la polemica ieri è andata avanti anche sui social perché Tommasi presidente dell'associazione italiana calciatori ha chiesto di fermare i campionati e ci sono state polemiche proprio sui social poi vedete i tabellini delle altre tre partite giocate ieri in questa giornata surreale con la vittoria della Sampdoria per 2 a 1 doppietta di Quagliarella per la formazione genovese dopo che era andata in vantaggio invece la squadra veronese per un autorete di Audero poi 0 a 0 alla Dacia Arena tra Udinese e Fiorentina e poi al Tardini di Parma vince la Spalper 1 a 0 grazie ad un gol di Petagna su calcio di rigore allora andiamo a vedere ora lo sport regionale il calcio di serie B partendo dal Pescara il poker nel silenzio è stato chiuso al pubblico per l'emergenza coronavirus giocatori in campo con le mascherine e si va come dicevamo verso lo stop del campionato in campo Pescara travolto dal Benevento per 4 a 0 zona play out vicina il Delfino dura un quarto d'ora poi il Benevento mette la freccia e vince in un ambiente surreale i biancazzurri vengono dominati dalla capolista le grottaglia le grottaglie da noi 13 casi di influenza ma nessuno ci fa fare il tampone biancazzurri in campo con le mascherine intanto del Grosso a pranzio con Caillon rimpatriata tra vecchi amici e avversari terzino biancazzurri e l'attaccante del Napoli a Roccaraso del Grosso era indisponibile per la gara di ieri a causa di un infortunio vediamo ancora per quanto riguarda il Pescara le pagelle per i biancazzurri prima di andare a vedere cosa ha scritto il messaggero sulla battuta d'arresto dei biancazzurri ieri al vigorito di Benevento le pagelle male Bruno difesa in balia dei Sanniti allora andiamo a vedere i voti che il quotidiano del centro ha dato ai giocatori del Pescara Fiorillo 5 e mezzo Bettella 5 Campagnaro 5 Marafini 5 Macciangelo 5 Memusciai 5 e mezzo Bruno 4 e mezzo Meleconi 5 e mezzo Clemenza 5 e mezzo Crecco 5 Galano 5 e mezzo Borrelli 5 d'altronde dopo una partita del genere è difficile poter immaginare qualche sufficienza e dunque Pescara che esce bocciato in tutti i sensi dalla gara di Benevento in cui le grottaglie ha dovuto fare a meno di 13 giocatori gli altri postici vi vedete Juve Stabia Spezia 3 a 1 con gli Stabiesi che superano in classifica il Pescara Entella Ascoli 3 a 0 parliamo anche di Gianluca Pacchiarotti ex portiere del Pescara io Maradona e la Serie A l'ex portiere di Scafa parla 40 anni dal debutto record Diego mi regalò la maglia andiamo a vedere invece quello che scrive il messaggero sulla sconfitta del Pescara Pescara picco nel vuoto poker del Panzer Benevento nello stadio a porte chiuse vediamo di allargare la pagina ecco qui i sigili di Insigne Sao Moncini dopo 32 minuti poi i campani controllano e chiudono con in prota atmosfera surreale mascherine al vigorito per i giocatori del Pescara poi le pagelle poche le sufficienze si salva il baby Marafini ma non è stata sicuramente una giornata positiva per il Pescara d'altronde di fronte c'era una squadra che in questa stagione aveva perso solo una volta e proprio nella gara dell'Adriatico vinta dai Biancazzurri per 4 a 0 e ieri come si suol dire il Benevento ha pareggiato i conti vincendo con il Delfino con lo stesso risultato allora andiamo a vedere il servizio sulla sconfitta del Pescara al vigorito nessun miracolo al vigorito dove il Pescara incerottato come non mai vede le streghe e crolla inesorabilmente sotto i colpi della prima della classe già virtualmente in Serie A senza protagonisti importanti il Pescara rimedia un'altra brutta serata e pesante sconfitta per 4 a 0 figlia anche delle assenze oltre che dei tanti limiti della squadra le grottaglie ritorna al 3-5-2 con scelte quasi obbligate a causa dei 13 assenti in difesa si rivede Campagnaro con Marafini all'esordio assoluto al posto di Scognamiglio in attacco al fianco di Galano c'è Borrelli si parte in un clima surreale senza tifosi e con una Pescara coraggiosa che cerca di farsi valere al nono minuto Galano dalla distanza impegna Montipo che paratterra meglio e Biancazzurri in questa prima fase di gara con i locali che al 17esimo vanno però in vantaggio con Roberto Insigne che servito da Sao si inventa un tiro a giro dall'interno dell'area di rigore che non lascia scampo a Vincenzo Fiorillo giallorossi avanti e in gol al primo tiro in porta con i biancazzurri che si disuniscono così come accade spesso in questa stagione subendo così al ventesimo il puntuale raddoppio della capolista con l'errore di Bettella sulla tre quarti ed il pallone regalato a Insigne che apre per Sau che infila per la seconda volta il portiere della Pescara la squadra del presidente Sebastiani prova a reagire al ventisettesimo e proprio Bettella a mirare all'angolino trovando la respinta del portiere Beneventano ma che sia una partita maledetta per il Pescara si capisce al trentatresimo quando Moncini di testa sul cross di in porta fa tre a zero rischia di anofragare la squadra di Le Grottaglie al cospetto della capolista del torneo che pur senza forzare controlla ora la gara senza assilli arrivando così all'intervallo sul triplo vantaggio nella ripresa Le Grottaglie passa al 4-3-3 per cercare di scuotere i suoi ragazzi come in avvio di gara anche in questo secondo tempo il Pescara prova a premere ma al nono minuto Sau davanti a Fiorillo si divora la rete del 4-0 così come accade poi al sedicesimo ancora con l'ex Cagliaritano che solo in area trova la respinta del portiere pescarese ogni volta che attacca la squadra di Inzaghi crea pericoli al venticinquesimo il Pescara rischia ancora di subire la quarta rete con la rovesciata di Moncini che termina a lato poco dopo arriva il turno di maniero per Borrelli con Bozinov che resta ancora in panchina e al ventiseiesimo e dunque dopo qualche istante arriva il poker sanita con la rete di Improta sul filo del fuorigioco cala così il sipario sulla gara del Vigorito con la testa che va al match con la Juve Stabia che per la squadra del presidente Sebastiani varrà davvero un pezzo di campionato nel finale di partita del Vigorito al trentaseiesimo c'è spazio anche per l'esordio di Dianbo prima dell'ennesimo gol fallito dei padroni di casa con Moncini al quarantesimo poi il trebice fischio finale di Rapuano di Rimini con il Pescara che esce con una sconfitta annunciata dal Vigorito ma sabato prossimo all'Adriatico con la Juve Stabia sarà vietato sbagliare e questo dunque il servizio sulla sconfitta del Pescara noi parliamo invece del Teramo e dunque scendiamo in Serie C Teramo smarrita la via in casa Albonolis questa volta passa la Virtus Francavilla per 1-0 la zona di vantaggio dei playoff a questo punto si accorce il primo tempo del Diavolo è stato assolutamente disastroso Iechinamaro queste mazzate servono bisogna cambiare mentalità e dunque questo il titolo del quotidiano il messaggero sulla sconfitta del Teramo andiamo a vedere come commenta invece il centro il capitombolo casalingo dei Biancorossi Teramo a picco i playoff sono a rischio la Virtus Francavilla domina il primo tempo e merita il vantaggio non basta i Biancorossi una ripresa all'assalto vediamo gli altri risultati della giornata di ieri nel campionato di Serie C Girone C l'unico Girone in cui si sono disputate le gare considerando che sono stati fermati per l'emergenza coronavirus i gironi A e B vediamo dunque che è accaduto con la vittoria dell'Avellino per 2 a 0 sulla Ternana Bisceglie Catania 0 a 1 Monopoli Casertana 0 a 1 la Casertana sarà il prossimo avversario nel Teramo nel prossimo turno Picerno Regina 0 a 2 Sicula Leonzio rende 1 a 0 Vibonese Paganese 1 a 1 e l'ultima partita il derby Laziale Viterbese Rieti 0 a 1 vedete nel silenzio e il patron che fa l'ultra nella foto il presidente del Teramo Franco Iachini in tribuna a seguire la partita dei suoi ragazzi al 91esimo vi avevamo proposto ieri nel corso di diretta stadio anche l'intervista con il patron del Teramo Iachini partita pessima detto Iachini squadra senza attributi il presidente duro con i suoi ragazzi allora andiamo a vedere i voti per quanto concerne Biancorossi Tomesi e mezzo Piacentini 5 K6 Cristini 5 e mezzo Soprano 6 Cancellotti 5 e mezzo Santoro 6 e mezzo Arrigoni 5 e mezzo Biringea 6 Mungo 5 e mezzo Florio 5 e mezzo Bombaggi 5 e mezzo Magnaghi 5 andiamo a vedere in questo caso anche i voti del messaggero ai giocatori del Teramo Tomei 6 e mezzo Piacentini 6 K6 e mezzo Cristini 6 Soprano 6 Cancellotti 5 e mezzo Mungo 6 e mezzo Arrigoni 5 Biringea 6 Santoro 6 Florio 5 e mezzo Magnaghi 5 e mezzo Bombaggi 6 e dunque Teramo che si prepara alla gara del prossimo turno a Caserta e intanto restando alla Serie C vedete c'è questo titolo perché aumentano i casi Lega Pro c'è un altro positivo in Serie C si tratta di Favalli figlio d'arte e difensore della Reggio Audace proseguiamo siamo sempre sul centro Serie D 8 giornate al termine del campionato ieri lo stop per l'emergenza coronavirus Micciola Notaresco in corsa Vasto un giorno tornerò parla il direttore sportivo della capolista Matelica per la C e l'8 a 4 ci sono anche i rosso-blu ha detto Micciola ovvero il Notaresco che però nelle ultime settimane si è fatto recuperare diversi punti dalle squadre che inseguivano e ora c'è il Matelica proprio con il Notaresco in testa la classifica il Matelica che è guidato da Gianluca Colavitto che è conosciutissimo in Abruzzo oltre ad essere ormai abruzzese e adottivo da tantissimi anni vive a Lanciano e ha guidato diverse formazioni abruzzesi e dunque Colavitto è un volto noto nella nostra regione vediamo in alto le notizie dalle varie sedi Lecchieti recupera Brugaletta per il prossimo turno Sansovini nel Notaresco è pronto al rientro andiamo a vedere l'altra pagina che riguarda ancora il calcio di eccellenza in questo caso Lucarelli a riposo forzato sconto i miei errori il tecnico analizza l'eccellenza che è stata vinta proprio da Lucarelli due volte Castelnuovo merita il successo sbagliato ad aspettare il Chieti e poi ad accettare la panchina del Lanciano in promozione conto alla rovescia per l'Aquila e Casalbordino la squadra del capoluogo il club giallorosso verso la vittoria del campionato a suon di record l'Aquila sta davvero sbaragliando la concorrenza ma soprattutto rischia di battere tutti i record dei campionati abruzzesi di promozione perché possiamo leggere un risvolto di questo articolo del quotidiano il centro perché l'Aquila nelle 28 gare sin cui disputate è andata a segno per 72 volte con una media di 2 gol e 57 a incontro che sale addirittura a 4 e 28 se si restringe il campo delle solo gare e giocate dinanzi ai propri tifosi dunque un ruolino di marcia davvero incredibile per la formazione guidata da Cappellacci vedete nella foto il bomber dell'Aquila Maisto che ha segnato ben 29 reti in questa stagione questo per quanto riguarda il girone A nel girone B domina il Casalbordino anche se meno nettamente però i giallorossi vantano anche il loro ruolino di marcia a dire poco strepitoso in trasferta infatti i ragazzi di mister Borrelli si sono dimostrati in assoluto i più bravi totalizzando 35 punti scusate in 13 gare frutto di 11 successi e due pareggi in pratica il Casalbordino lontano dal suo campo non ha mai perso e nessuno in Abruzzo ha saputo fare meglio senza contare che quella casalese è anche l'unica formazione di promozione ancora imbattuta dopo 28 turni perché l'Aquila ha perso una partita nel campionato di promozione nel girone A il Casalbordino invece fino a questo momento e formazione teatina è imbattuta nel girone B dunque questa è l'analisi da vicino del campionato di promozione noi torniamo sul quotidiano il messaggero invece per dare spazio come ogni lunedì anche al mondo UISP con i campionati che ovviamente anche nel calcio UISP si fermano per l'emergenza coronavirus vedete la parola al presidente interregionale Abruzzo Molise della UISP Alberto Carulli tutto sospeso per evitare fraintendimenti ha detto Carulli poi vedete poco ottimismo sulla ripresa delle partite per venerdì 13 marzo vietato giocare a calcio Vincenzo Maselli che è responsabile presidente della Lega Calcio di Pescara UISP a rischio ha detto Maselli sono anche le fasi regionali e le finali nazionali UISP si ferma il calcio UISP si è fermato anche il podismo tutti in stand by fino al 3 aprile per il 19 aprile è previsto uno degli appuntamenti più importanti del UISP ovvero il Vivi Città ma anche in questo caso bisognerà vedere bisognerà capire cosa accadrà nei prossimi giorni con l'emergenza coronavirus noi restiamo al messaggero per andare a vedere quello che accade in serie D come abbiamo fatto sul centro tutto fermo negli stadi dove ci sono le grandi pulizie ora aspetta la Lega stabilire come recuperare le giornate la sosta è prevista anche per domenica prossima 15 marzo intanto il notaresco personalizza le borracce disinfestazioni su tutti i campi di gioco bisognerà capire quando si tornerà in campo in serie D si parla di riprendere come scrive qui il messaggero il 22 marzo comunque a porte chiuse ma ogni decisione si avrà in settimana quando mancano otto giornate al termine del campionato anche il girone F dove sono inserite le squadre abruzzesi ha giocato il suo ultimo turno il primo marzo scorso e dunque si attende di conoscere il nuovo calendario per quanto riguarda il campionato di serie D con le partite che torneranno a disputarsi probabilmente domenica prossima ma sicuramente a porte chiuse a meno che non venga deciso di stoppare come dicevamo anche prima tutti i campionati cambiamo sport lasciamo il calcio parliamo di motociclismo MotoGP Rosetano Nepa brilla nel primo gran premio con il debutto del pilota del motociclista Stefano Neba che si classifica ventunesimo ma è sempre rimasto in corsa per quanto riguarda questa manifestazione ma noi dobbiamo fare un passo indietro perché vi dovevamo vi dobbiamo il servizio sul sul Teramo torniamo dunque alla pagina che riguarda i biancorossi perché ovviamente abbiamo seguito ieri con le nostre telecamere la gara del Bonolis e allora con Jacopo Forcella andiamo a vedere il servizio sulla sconfitta casalinga del Teramo eppure un Bonolis deserto riesce a fermare il declino di un Teramo che perde anche lo scontro diretto con la Virtus Francaville e adesso rimette totalmente in discussione la qualificazione per i playoff la rete decisiva di Vasquez nel primo tempo condanna i biancorossi al terzo stop consecutivo interno scatenando a fine partita le ire del presidente Iachini Dimash sceglie la difesa tre con Piacentini Soprano e Cristini al centro una vera e propria rivoluzione visto che sugli esterni Florio e non Tentardini si posiziona sulla fascia sinistra con Cancellotti a destra al nono la prima emozione la regalano i pugliesi con la ripartenza di Vasquez il cui traversone trova la torsione aerea di Ekuban che si perde a lato al sedicesimo gol annullato agli ospiti Risolo gira verso la porta un pallone che scavalca Tomei ma l'intervento di Marino avviene quando il difensore è in posizione irregolare ancora è solo Francavilla stavolta di testa al ventesimo con Tiritiello direttamente sugli sviluppi di un calcio piazzato e come logica conseguenza arriva il vantaggio della Virtus Francavilla sempre da calcio d'angolo da cui svetta Vasquez che sale a 10 centri nel campionato e porta avanti i pugliesi anche in maniera meritata per quanto visto fino a quel momento Teramo evanescente che rischia addirittura di andare negli spogliatoi sotto di due reti prima Sparandeo calcia fuori un servizio involontario di Florio che spazza come peggio non si potrebbe pallone a lato altri 60 secondi ed Ekuban mette al centro per Vasquez sul quale si esalta Tomei che chiude in corner la ripresa si apre esattamente come si era chiuso il primo tempo col diagonale dopo due giri di lancette di Vasquez bloccato da Tomei la timida risposta del diavolo che comincia a costruire il gioco è la punizione da posizione siderale di Bombaggi alta sopra la traversa Dimascio toglie una rigore impalpabile per inserire Birligea spostando Mungo nel ruolo di play e qualche minuto più tardi torna la difesa a 4 con K al posto di Piacentini al sessantesimo fa tutto Bombaggi il migliore dei suoi recupera e si lancia verso la porta di Poluzzi superlativo nel deviare la sventola di desto del centrocampista Biancorosso ancora Bombaggi servito da Cancellotti minuto 62 prova ad impienzierire il portiere ospite in bello stile il Francavilla prova ad alleggerire la pressione di casa quando può con Albertini che da destra scodella per la testata fuori equilibrio di Vasquez che Tomei blocca al 72esimo il Teramo torna a farsi vedere sempre con Bombaggi che arma la testa di Birligea che non impatta come vorrebbe di testa sfiorando solo il pallone il diavolo adesso ci prova con insistenza al 74esimo Florio prova la conclusione a giro Poluzzi si allunga più che può e sventa la Virtus quando accelera però è sempre pericolosa al 78esimo Ecuban fa tutto alla grande supera Cristini ma angola troppo col destro da posizione defilata ancora Bombaggi al 79esimo stoccata affilatissima Poluzzi dice ancora di no allora è K a mettersi in proprio nel finale Poluzzi si esalta mettendo in corner il risultato non cambierà più con il diavolo che si ferma ancora e allunga 270 il numero di minuti senza reti un declino di cui non si vede la fine considerando che le porte ci saranno due trasferte consecutive sempre a porte chiuse ma adesso assolutamente da non fallire E questo dunque il servizio di Jacopo Forcella sulla battuta d'arresto casalinga del Teramo con la Virtus Franca Villa possiamo chiudere a questo punto definitivamente il capitolo calcio aprire quello relativo al basket torniamo alle pagine del centro alla sconfitta con onore del Roseto a Ferrara nel campionato di Serie A2 maschile Rodrigues non basta Roseto sfiora il colpo poi va a K con Ferrara Emiliani che si impongono per 87 ad 83 oggi il Consiglio federale deciderà se si continuerà a giocare o se ci sarà lo stop al campionato vediamo i risultati di ieri ma nella fattispecie si sono giocate solo due partite perché tutte le altre sono state rinviate ci si capisce davvero poco in questo momento con Milano che ha battuto Caserta 81 79 poi Ferrara Roseto 87 ad 83 tutte rinviate le altre gare Roseto penultimo in classifica con 16 punti la Serie B di basket si è invece fermata rinviata la gara tra Rimini e De Sacchieti ferme anche Giulianova e Adriatic Adriatic Press Teramo vediamo il volley di Serie A2 Palasport a porte chiuse ad Ortona con l'impavida che perde per 3 a 1 con Santa Croce prima sconfitta casalinga stagionale per la formazione ortonese che scende al quarto posto in classifica e poi vedete Piacenza Sora in Superlega giocatore influenzato la gara non si gioca andiamo a vedere ancora ritroviamo come sul messaggero l'articolo che riguarda la specialità Moto3 il gran premio di Los Ailes Nepa 22esimo all'esordio Qatar agrodolce per il pilota Rosetano il 18enne centauro della KTM lotta ma rimane nelle retrovie il ritmo gara è stato più alto del previsto ma mi rifarò e poi Avezzano e Paganica siamo al rugby in attesa di ripartire l'emergenza coronavirus ferma l'attività agonistica del rugby le abruzzesi restano così al palo chiudiamo con l'amatori Xen Lega 7 Teramo la Condor non sa più vincere la capolista arriva alla terza sconfitta di fila e noi siamo giunti davvero al termine dell'appuntamento di oggi di lunedì 9 marzo con Mattino 6 torneremo ovviamente con la nostra rassegna stampa domani puntuali alle 8 ringrazio Claudio Di Giacomo in regia ringrazio voi come sempre per la cortese attenzione vi do appuntamento alle prossime edizioni all'edizione delle 14 e le altre delle 19 e delle 23 con il nostro TG6 per ulteriori aggiornamenti sull'emergenza coronavirus ci sono altri casi che sono stati segnalati nella notte nella nostra regione ovviamente ci saranno approfondimenti proprio su questa emergenza che sta vivendo la nostra regione dunque appuntamento alle 14 con la prima edizione del nostro telegiornale per quanto riguarda l'informazione della nostra rete vi ricordo anche come ogni lunedì l'appuntamento in diretta dai nostri studi alle 21 con Replay condotto da Enrico Rocchi per parlare del Pescara dopo la sconfitta di Benevento la situazione di classifica dei Biancazzurri che si fa davvero delicata è davvero tutto grazie e buona giornata grazie a tutti